Il verde fluo è un colore davvero intenso e questa caratteristica lo fa sembrare uno dei colori più difficili da realizzare. Tutt'altro, io sono Jolie e benvenuti nel mio canale. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come abbiamo visto dalla nostra intro, oggi andremo a vedere come realizzare il colore verde fluo. Ma prima di cominciare, non dimenticare di cliccare sul logo e iscriverti al canale per non perdere nessuno dei miei video. Il verde fluo può sembrare uno dei colori più difficili da realizzare, ovviamente non per noi. Come per il fucsia, anche questo colore necessita di alcuni pigmenti particolari. Come pigmenti particolari, ovviamente intendo dei colori ad olio particolari che contengono e sono stati realizzati con un pigmento puro. Questo è molto importante perché se andiamo a utilizzare un colore già di suo scadente, non riusciremo ad ottenere quel verde che dà la sensazione che sia veramente fluorescente. Questo perché? Perché il verde fluo nella pittura d'olio non sarà fluorescente, ma avrà tutta la sua intensità e la sua caratteristica così luminosa. Uno dei colori base per creare questo colore è appunto il giallo primario. Ma adesso basta parlare e andiamo a vedere come realizzare il verde fluo nel modo giusto. Cominciamo subito con il nostro giallo primario. Io sto utilizzando la serie My Mary Puro, come dice il nome, è pigmento puro e olio. Dietro si può anche vedere il tipo di pigmento che c'è, quindi PY97. E questo sarà il colore base, mentre utilizzeremo un verde cupro Ftalo, Ftalocianina, che è uno dei miei verdi preferiti e penso che lo sia anche di moltissimi altri artisti. Per cercare questi pigmenti in altre marche vi basterà leggere il pigmento che vi sto facendo vedere e cercarlo in altri tubetti che magari già avete, come per il verde PG7, per il giallo abbiamo detto PY97. Di solito queste informazioni sono nel retro del tubetto, o altrimenti basterà guardare online per capire che pigmento ha il vostro tubetto d'olio. E' molto molto importante utilizzare questi due pigmenti perché gli altri potrebbero non essere adatti per la creazione del nostro colore. Aggiungiamo veramente pochissimo verde Ftalo al nostro giallo primario e come si può notare già si può intravedere un verde fluo bellissimo. C'è una cosa però da dire, bisognerebbe aggiungere anche una punta di bianco titanio. Ora io però ve lo faccio vedere così puro perché rimane molto trasparente e quindi potrebbe aver bisogno di più velature. Quindi magari bisognerebbe fare una passata di colore che adesso andremo a fare e poi dovremo fare più passate per ottenere una copertura più ampia, visto che i colori che abbiamo utilizzato sono trasparenti e non coprenti. Per ovviare a questo problema successivamente vi farò vedere come è questo colore, questa nostra miscela con il bianco di titanio. Adesso andremo a realizzare metà sfera con il colore trasparente e l'altra metà aggiungeremo il bianco titanio per vedere la differenza. Vi assicuro che ne basta davvero poco di bianco titanio. Però ho voluto lasciarvi questo colore così trasparente per farvi capire quanto è più luminoso senza aggiungere il bianco titanio e quanto sarebbe corretto fare più velature, ovvero aspettare che asciuga questa metà sfera e ridipingerci sopra una volta che asciutta con lo stesso colore e verrebbe veramente coprente, sarebbe davvero luminosissimo, più di come è adesso e vi assicuro che adesso, non so se in camera si vede bene, è davvero luminosissimo. Adesso andiamo a utilizzare un po' di bianco titanio e vediamo quanto diventa coprente perché noi utilizzeremo il bianco di titanio per dargli una luminosità maggiore in quanto di chiarezza e una coprenza maggiore perché appunto abbiamo utilizzato dei colori trasparenti. ma vi assicuro che se utilizzate dei pigmenti buoni, quindi dei colori buoni come la My Mary serie puro, vi assicuro che comunque questo non rovinerà il pigmento, cioè anche se aggiungerete del bianco, comunque il vostro pigmento sarà veramente colorante, tantissimo. La differenza la si può notare subito, però quello che c'è da dire è che aggiungere del bianco a questa miscela di colori andremo ad aggiungere quindi un terzo colore, verde, giallo e bianco, ci sarebbe un terzo colore aggiunto. e noi sappiamo che la miscela di colori è chiamata miscela sottrattiva perché appunto sottraggono luminosità ogni qualvolta gli si viene aggiunto un pigmento diverso, mentre la sovrapposizione di colori a velature non crea questo effetto, quindi basterebbe anche essere un pochino pazienti e aspettare e dare una seconda passata di colore sulla velatura che abbiamo già passato. Questo secondo me è il modo corretto per fare il verde fluo, ecco, però anche con il bianco titanio si ottiene un tipo di verde fluo diverso, può sembrare anche addirittura più luminoso, perché appunto contiene il bianco e anche piacevole. Se vi può interessare potrei aspettare che asciughi e passare io una seconda mano di questo colore per farvi vedere poi il risultato. Ovviamente non ve lo farò vedere in un video, ma questo verrà postato o su Instagram, sulle storie, oppure nelle storie di YouTube o addirittura nelle foto che pubblico ogni tanto su YouTube. Se volete posso anche farlo, così vediamo il risultato della velatura. che ovviamente io non posso farvi subito perché altrimenti dovremmo aspettare più tempo per la pubblicazione di questo video. Ed ecco il risultato finale. Eccoci qua ragazzi, il nostro video è giunto al termine. Se il video vi è piaciuto e se avete delle idee su qualche colore che vorreste vedere realizzato, fatmelo sapere nei commenti e sarò felicissima di portarlo sul canale. Ricordatevi che sono anche su Facebook, Instagram e TikTok e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione da Jolie.